Eccoci e bentornati sul mio canale! Dopo aver completato la campagna, quindi la storia principale di Watch Dogs, ci buttiamo subito nelle missioni extra. Vi stavo dicendo, avendo comprato la Special Edition, abbiamo a disposizione sia 4 missioni extra che sono Control, Alt, Cance e Spegni, se non ricordo male, stiamo andando a fare proprio queste. Ed inoltre anche l'esclusiva tenuta bianca, DedSec e un hackeraggio potenziato extra. Ed inoltre abbiamo anche un'altra missione giocatore singolo che è dentro il complotto. Adesso comunque, nei prossimi giorni, quindi andremo a fare praticamente queste 4 missioni extra, poi ovviamente mi butterò un po' sulle missioni secondarie e poi vedrò anche di fare un po' più la missione extra dentro il complotto. Però, al momento voglio fare queste 4 perché mi incuriosiscono tantissimo, soprattutto per il discorso del nome e poi voglio buttarmi un po' sulle missioni secondarie. Eccola qua. Dov'è? Eccola qua. Contratto esclusivo. Vedete, ha un'icona molto particolare. Avvia, contratto esclusivo. Andiamo. Control, ecco la prima. Noi ossidiamo e abbiamo interessi simili. Quindi abbiamo una proposta. La multiazionale senza volto Umeni e il suo corrotto dirigente dal ricco Pacadute meritano una lezione. Non sa facile. Ma ne varrà la pena. Ho visto quel tizio in tv. Ho cambiato canale. Insieme possiamo detronizzarlo. Ma dobbiamo accedere al sistema Illumini. Quindi ci servono i dati di cesso. Sappiamo da dove puoi iniziare. Quando li avrai arrivati, dirò dove caricarli. Ok. Carica allo spyware. Quindi praticamente sono delle missioni che arrivano direttamente dal deadsec. Una cosa molto importante che mi sono dimenticato di dirvi. Per giocare queste quattro missioni, poi non so se... Che cos'è qua? Non disponibile. Se valga la stessa identica cosa che ci arriviamo con la telecamera. Anche per la missione... Dentro il complotto dobbiamo aver completato la missione bastoni tra le ruote. Che se non ricordo male è una delle missioni... Non c'è una telecamera un po' più in alto? Porco cane! E' una delle missioni del primo atto. Adesso vado a memoria e spero di non dire una cosa per un'altra. Allora, non so se sia giusto andare a piedi oppure dobbiamo andare... Però non vedo strade da dove poter accedere. Andiamo un po'. Sto scavalcando il mondo sperando di riuscire ad arrivare in un punto più alto. Perché forse ci si arriva anche a piedi. Eccolo un'altra qua. Se ben ricordate quella missione che non riuscivo a trovare il punto dove poter salire. E' uno spettacolo. Eccola qua va. Ci siamo arrivati a piedi. Dobbiamo inserire lo spyware. Poi la cosa molto interessante è il nome di queste missioni. Mi incuriosisce tantissimo. Allora, questo intanto lo possiamo aprire. E presumo che debba andare per così. Poi... Questo... Questo... Così... Benissimo. Così gli arriva l'input da qua. E vediamo se riusciamo ad aprire. Eccolo un altro. Questo ci fai da ponte diverso qui. Questo, perfetto. Dobbiamo fare... Arrivare lì. Aspetta, aspetta che... Questo mi si stava aprendo. Molto bene. Ok. Questo... Ah no, mi deve arrivare l'input dall'altra parte però, eh. Dall'altra parte. Vediamo un po'. Benissimo. Questo... Io direi che... Penso che sia il caso che vada sopra. Non so se siete d'accordo. Vediamo un po'. No, però come fa ad arrivare lì? L'input se è quello non lo mandiamo sopra. Uno, due. Aspettate. Qua lo blocca. Allora, allora, allora. Questo me lo devi... Aspetta, aspetta. Questo mandi giù. Così questo lo mando qui. Questo... Ok. Perfetto. Vai sopra. Molto bene. Questo vai sopra così questo lo apriamo. Questo ce ne arriva uno. Per farci arrivare l'altro. Uno, due. Quanti ne mancano? Non ne mancano tantissimi, eh. Non ne mancano tantissimi. Questo non funziona in quel senso. Questo funziona in questo. Vediamo un po'. Questo però ci va, eh. La cosa mi piace. Vai. Così. Bene. No, però questo... Non mi deve arrivare l'input da quella parte lì. Per arrivare l'input da quella parte lì. Aspetta, aspetta. Bene. No, dovevo riuscire a mandare un input. Uno, due. Mi riusci a portarlo da questa parte. Da questa parte, eh. Uno è facile. Tante volte sembra facile, però... Aspettate. No, no. Questo... Va bene così. Ok. Però non gli arriva quell'altro. Così è tipo mezzo bloccato. Vediamo, eh. Vai di qua. Dov'è? 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 Così me lo blocca. Che sudata. Questo va qui. Aspetta. Questo. Questo. Così. No, però così poi non mi arriva l'input. Questo non va bene così. Questo va bene. Però non mi arriva l'input di qua. Dov'è? 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 Come facciamo? Non così. Ma così. Così. Che non gli arriva? Così non gli arriva. Cacchio, tu riusci a fare in modo che mi arrivi la corrente da quella parte. Così non gli arriva. Perfetto. Vai. Vai. Bene. Bene. Due. Ok. E adesso dobbiamo mandarla solamente sopra. Solamente sopra. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Per mandarla in quel senso lì. Proviamo così. Ok. Però non mi arriva dall'altra parte. Gira così il senso. Ok. Perfetto. Ci siamo. Dentro. D'accordo, ma non abbiamo molto tempo. Passerà in ufficio, prenderà i codici e ci raggiungerà. I dati sono in movimento. Devo sbregarmi. Localizzazione e bersaglio. Perché stanno in movimento? Segui il bersaglio per rubare i dati. Mamma mia. Attento. Ah! Che trambata, ragazzi. Vi giuro. Col fatto che ci stavano tutti quei balconi. Pensavo veramente che se mi buttavo ce ne stava praticamente uno. Invece no. Ho fatto una gran cretinata a buttarmi. Che trambata assurda. Mega trambata. Vabbè dai. Va bene lo stesso. Basta che non ci fanno rifare tutta questa cosa. Ci abbiamo messo un pochettino. Però era alquanto difficile. Era bello quello là. Quando siamo andati da default. Se ben ricordate quell'hacker. Mamma mia. Quelli con tutti i timer rossi. Era veramente tosto. Perché sicuramente c'erano dei firewall che ci bloccavano il tutto. Speriamo che abbia salvato. E non dobbiamo di nuovo hackerare il sistema. E dobbiamo ovviamente... Oh eccolo. Segui il bersaglio. A meno male. Ci ha detto bene. Ok. Andiamo. Via via via. Aiaia. Allora. Dove stai? Dove stai bello de casa? Eccoti qua. Bene. Andiamo. Comunque queste missioni penso che siano tutte basate proprio sull'hackeraggio pure semplice. O meglio puro... Oh porco cane. Pure tosto perché vedo che il dead sack. Fa belle belle missioncine. Adesso ci facciamo la control e poi ci facciamo tutte le altre. Perché poi sono curiosissimo di vedere le missioni secondarie. Perché ho visto che devo sbloccare un bel po' di ctos. Quindi altri sistemi. Così aumentiamo anche di esperienza e di punti abilità. E poi un'altra cosa dobbiamo fare. Tipo le varie missioni. Perché a quanto pare. Se non ricordo male. Se sblocchiamo delle missioni secondarie. Ci danno altre missioni da fare. Tipo una missione se completiamo che ne so. Otto cose secondarie di una determinata cosa. Adesso vado a memoria. Poi pian piano vedremo tutto. Perché sto gioco vorrei veramente godermelo in lungo e in largo. Ecco qua siamo arrivati al bersaglio. Scarica. Andiamo. Se ne ha accorto? Zitti che se ne ha accorto. Mappa come scarica lento però. Che è in 56k. Scarichi lentino. 15. 16. Mamma mia. Penso che dovremmo seguirlo per un bel po'. Oh. Tento. 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 Bene così. Andiamo. Era tipo da bloccarlo. Spaccavamo la macchina. Non lo vedi come faceva. Oh. Cacchio fai. Cacchio fai. In persone qua so. Come i nemici sono all'inseguimento? Chi diavolo è? Cacchio. Ci hanno sgamato. Attenzione. Oh. Oh. Via. Guarda che cacchio fanno. No. 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 Cacchio. Porco cane. Sbrigate. Sbrigate. Prendi la moto. Prendi la moto. Ma avete visto? È caduto dalla moto. Come cacchio ha fatto? Non l'ho capito. Mannaggia. Che trambata. Sta pure. Sta andando pure a fumo. Sta andando. Ecco che lo vado a riprendere. Basta qua subito sulla sinistra. Neanche a dire che se n'è andato troppo lontano. Mamma mia. Stavo già a metà. Stavo. Cacchio. Eccomi. Arrivo. Prendiamo il download. Aia. No. Prendi. Riprendi. Riprendi. Che cacchio. Mannaggia a me. Sto facendo delle manovre assurde. No ma più che altro perché abbiamo sti fixar dietro. Questi che mi rompono l'anima. Arrivo. Ecco qua. Recupera. Perfetto. Perfetto. Se riuscissi pure. Che dite? Forse è pure a spaccarla. Come? Sta a due passi. Oh. Oh. Dov'hai? Dove vai? Andiamo. Ci siamo dietro. 68. 69. Così poi se rompono l'anima li facciamo secchi uno dopo l'altro. Oh. Oh. Dov'ha? Dov'ha? Dove va? Porco cane che ha accelerato ha condato. Attento che sei in mezza in puntata. C'ho pure mezza fumante la moto. Manco me ne so accorta. Adesso ci sta facendo caso che la cosa non è buona. Dai siamo all'81. La cosa è fantastica. Dai. Dai. No no. Che connessione perduta. Sto attaccato. Sto proprio dietro al sederino. Al popò. Nel retroterreno. Dai dai. Scarica i dati. 95. Ci siamo quasi. Dai. Perfetto. Ok. Neutralizza il bersaglio. Forza. Perfetto. Andiamo. Oh. Oh. Scusami. Scusami signora. Ce ne sta un altro eh. Ce ne sta un altro. Anzi sta arrivando un'altra macchina. Ricarica. Perfetto. Dove vai? Mamma mia. Che spettacolo. Numeri veri per noi ragazzi. Numeri veri. Non poteva andare meglio questa missione. A parte il tuffo. Che abbiamo fatto. Dal balcone. Ma quello è stato veramente memorabile. Bellissimo. Il tuffo. Il tuffo è stato proprio bello. Dai. Quello è stato proprio il top. Perfetto. Dati scaricati. Adesso raggiungiamo la destinazione. Così il death sack sarà veramente contento di noi. Attenti. Ok. Gira gira. Andiamo. Allora. Prima. Penso che così. Non so se dobbiamo ancora fare qualche altra cosa. Cioè la missione continua. Ma o con questo abbiamo completato quello che ci richiedeva il death sack. Adesso lo scopriamo appena raggiungiamo la destinazione. E con i dati che ci hanno richiesto. Eccoci qua. Li dobbiamo caricare a quanto pare. Oh. Aspetta. Qui. Entra. Andiamo. Ah. Pure qua dentro? Nascosti? Perfetto. Missione completata. Benissimo. Ottimo lavoro. Quei codici sono solo una parte dell'acceso di sicurezza. Pietro la messi scena. Alla prudenza non è mai troppa. Quando sei pronto. Il prossimo pacco vi aspetta. Mamma mia. Pure 4000 a denaro. Fantastico. Benissimo ragazzi. Abbiamo completato la prima missione extra. E ci vediamo nel prossimo video. Così andiamo a fare l'altra missione delle 4. Prevista appunto da questo pacchetto che ho scaricato. Ci vediamo nel prossimo video. Insieme a Watch Dogs.